Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in italiano oggi voglio commentare con voi un video che ho postato in inglese qualche settimana fa sul mio viaggio in Kenya e dato che me lo avete richiesto eccolo qua l'audio in italiano spero che questo video possa rilassarvi ma anche interessarvi e che possiate imparare nuove cose il viaggio in aereo da Milano a Mombasa è di circa 8 ore ma noi abbiamo fatto scalo a Zanzibar in Tanzania e quindi diciamo che siamo stati in ballo circa 12 ore e quando siamo arrivati c'erano già le jeep pronte ad accompagnarci verso Zav West che sarà il primo parco che andremo a visitare e mentre ci avviciniamo appunto allo Zav West vi do qualche informazione sul Kenya il Kenya è collocato nella parte est dell'Africa e la sua capitale è Nairobi in questo momento è luglio quando io ho fatto questo viaggio e in Kenya è inverno quindi non c'è molto caldo, fa caldo ma comunque si sta bene ma la temperatura può cambiare a seconda della città in cui ci si trova perché il Kenya è attraversato dall'equatore quindi ci sono diverse ambientazioni, diversi paesaggi come andremo a vedere quindi qui siamo alle porte, ai cancelli dello Zav West pronti ad andare ad esplorare la savana che è appunto il tipo di ambientazione che vedremo durante il safari e consiste in terra molto arida e pochi alberi e cespui diciamo che è l'ambientazione del re leone quindi penso che tutti sappiamo com'è ecco questa è la prima cosa che io ho visto in Kenya praticamente che è uno strunzo e poi mi sembrava molto strano non sapevo vivessero nella savana comunque il Kenya ha molte aree naturali dove si può fare il safari ma noi in questo viaggio visiteremo lo zavo est, lo zavo ovest e il parco Mboseli questo è un viaggio organizzato, non so, penso l'abbiate capito e quindi ecco noi abbiamo la guida che parla bene italiano ma la lingua del posto è lo suaili ma le persone parlano anche inglese quindi diciamo che ci si capisce senza problemi in questo momento appunto noi siamo nello zavo est che è parte del parco zavo che è il più grande parco naturale del paese e stiamo parlando di circa 22.000 metri quadrati quindi grande quasi quanto la Toscana e zavo è il nome in realtà del fiume che attraversa il parco safari nella lingua suaili significa viaggio e infatti diciamo che il safari è proprio un viaggio dentro il viaggio io sono già stata in Kenya tipo 15 anni fa con la mia famiglia ed è stata un'esperienza così bella che ho voluto portarci anche il mio fidanzato in questo viaggio noi faremo 4 giorni di safari e poi ci muoveremo verso la costa per goderci l'oceano indiano in questo momento stiamo per assistere all'accoppiamento del leone con la leonessa che è un evento molto raro da vedere quindi insomma sono super contenta di averlo visto anche se abbiamo un po' invaso la privacy di questi due leoni che però sembravano un po' anticonfu cioè un po' esibizionisti in realtà quindi ok per questo viaggio noi abbiamo speso circa 200-2000 euro scusate a testa pasti e voli inclusi quindi tutto incluso e si poteva pagare anche a rate e ovviamente non è stato un viaggio economico però alla fine di questo video concorderete con me che ne è valsa la pena non abbiamo neanche dovuto fare delle vaccinazioni invece quando ero venuta appunto con la mia famiglia che era dicembre quindi era estate abbiamo dovuto farle quindi non so se dipende da quello ma comunque praticamente non c'erano zanzare ci sono molte più zanzare da noi ecco e poi noi abbiamo pagato anche un piccolo supplemento per la jeep dove ci sono massimo sette passeggeri perché se no avremmo dovuto prendere il pulmino che però è meno bello ecco il pulmino perché ci sono più persone sopra quindi ci hanno consigliato la jeep l'autista della jeep si parlava con gli altri autisti e per diciamo comunicarci dove avevano avvistato degli animali quindi siamo riusciti a vederne molti già al primo giorno come avete visto questo che vedete è il primo lodge in cui abbiamo passato la notte e si affaccia su una beveratoio quindi è stata davvero un'esperienza emozionante perché appunto vedavamo dal ristorante dall'alloggio questa meraviglia e questi lodge sono gestiti dalle persone del posto che ci hanno insegnato un sacco di parole per esempio per esempio jambu significa ciao akunamatata come sapete significa stai senza pensieri pole pole significa lentamente aracaraca significa veloce assantesana significa grazie e abaricana significa come stai e poi un sacco di altre cose che mi sono dimenticata purtroppo questa che vedete ora è l'alba vista dal mio da sotto la mia zanzariera appunto nel primo lodge dove finalmente ci siamo rilassati ci siamo ecco alzati presto per andare a visitare il parco Zavo Ovest e quindi eccoci qua ci alzavamo tutte le mattine molto presto verso le 5-5 mezza ma non è stato stancante anzi a livello mentale è stato molto rilassante perché eravamo sempre occupati a fare cose insomma interessanti e diciamo che la prima volta che ero venuta qui mia eravamo stati nelle tende che sono un po' più spartane però devo dire che anche i lodge comunque sono immersi nella natura quindi se volete un attimo proprio non andare nelle tende ma comunque vivere l'esperienza della savana vi consiglio i lodge questo è un termitaio e sopra si vede una cavia delle rocce che è super carina in alto a destra e in questo momento siamo nello Zavo Ovest questi sono dei niti di uccello che c'erano sui alberi ed erano incredibili questo è già la vista che abbiamo dal secondo lodge che si affacciava anch'esso su un abbeveratoio dove possiamo vedere un bufalo africano e poi arriveranno anche degli elefanti quindi anche questo lodge diciamo che è fantastico come potete vedere e in realtà passava anche un piccolo facocero ma non sono riuscita in realtà avevo il video ma non l'ho più trovato quindi perdonatemi però questo era sempre nel lodge potete vedere una lucertolona e lì che vi guarda sempre una cavia delle rocce che sono appunto simili a dei porcellini d'India però meno grassi perché si muovono un sacco quindi sono molto più in forma dei miei porcellini d'India di sicuro adesso visitiamo ancora un po' dello Zavo Ovest e in particolare andiamo a vedere il santuario del rinoceronte che è molto importante perché nella savana è molto difficile vedere un rinoceronte queste qui sono le scimmie che passavano scusate parentesi che passavano praticamente di fianco al nostro balcone che sembravano super carine questa famigliola di scimmiette che carine che carine adesso vedete che cosa fanno io tipo scioccata e boh cioè state a vedere no vabbè comunque ci hanno detto che le scimmie sono cattivissime quindi appena ci è passata davanti no vabbè io scioccata spero che youtube non mi tolga il video comunque come vi stavo dicendo questo è il santuario dei rinoceronti perché nel 1940 c'erano 20.000 rinoceronti neri nello zavo ma nel 1989 ce n'erano meno di 20 a causa dei bracconieri e quindi hanno fatto questa area per proteggere i rinoceronti e adesso ce ne sono già 120 e si spera di farli diventare sempre di più ecco in questo momento siamo appunto nella beferatoio del secondo lodge e stiamo aspettando che compaia il il che parto e hanno messo quelli dell'hotel un'impalcatura con della carne potete vedere per attirare un che parto che a volte appunto viene e si fa vedere attirato da questa carne ma alla fine non l'abbiamo visto è arrivata una iena che poi si è spaventata perché c'erano troppi elefanti ed è scappato e quindi niente purtroppo non abbiamo visto il ghepardo però abbiamo visto e vedrete anche voi quasi tutti gli animali che sono chiamati i grandi cinque della savana che sono il leone che l'abbiamo visto il leopardo che non l'abbiamo visto il rinoceronte che l'abbiamo visto l'elefante e il buffalo africano quindi li abbiamo visti tutti praticamente tranne il leopardo e vabbè il ghepardo quindi comunque siamo state fortunate purtroppo il ghepardo non è arrivato però secondo me c'erano troppi altri animali nella davanti alla peperatoio comunque ho lasciato purtroppo i nomi in inglese degli animali se non vi torna qualcosa o se non riuscite a capire qualcosa ditemelo pure che ve lo traduco perché mi sto rendendo conto che non ho non ho messo in un minitaliano perdonatemi però quasi tutti gli animali sono abbastanza conosciuti allora questo momento abbiamo già abbandonato lo zavo ovest e ci stiamo cioè in realtà lo stiamo abbandonando e stiamo iniziando il nostro viaggio verso ambosili ovviamente ci siamo fermati a vedere le scimmie perché erano sono davvero buffe anche se appunto ci hanno detto che sono pericolose che sono un po' che graffiano ed è un peccato perché mi piacevano allora in realtà qui siamo ancora nello zavo ovest e ci siamo fermati appunto per vedere lo scetani lava che è il più grande di una serie di colate vulcaniche che ci sono in questo parco che è nominato diciamo si chiama scetani perché in suahili vuol dire diciamo fantasma cattivo e come potete vedere c'è tutta questa colata vulcanica allora adesso dopo aver visto questa questi animali bellissimi ocelogno forse non l'avevamo ancora visto quindi scusate ma è tardissimo che sto registrando e sto un po' delirando allora adesso siamo nel parco Amboseli dove vivono i Masai i Masai sono la più grande tribù del Kenya che sono stati confinati purtroppo in un'area molto più piccola dalle truppe britanniche che hanno invaso il paese nei primi anni del ventesimo secolo i Masai sono una tribù seminomade che vive diciamo di bestiame di capre soprattutto e a differenza delle altre tribù è molto legato alle tradizioni vivono in questi edifici circolari e nel centro del villaggio c'è appunto il c'è recinto degli animali per proteggerli dagli altri animali selvatici della savana e le loro case sono costruite dalle donne solo dalle donne e sono appunto delle case apposta per delle persone che sono sempre in movimento quindi sono fatte di materiali come legno acqua fango caccati mucca e anche urina umana e ci hanno detto che loro i Masai mangiano solo tre cose solo tre carne latte e il sangue del bestiame e basta abbiamo anche contrato i bambini e quindi se andate in Kenya mi raccomando portate dei quaderni o delle penne eccetera perché i bambini piaceranno un sacco allora adesso siamo in Amboseli che ha il proprio ecosistema che è a metà tra il Kenya e la Tanzania è molto più piccolo dello Zavo Amboseli perché è 392 chilometri quadrati ma proprio per questa ragione è molto più facile incontrare gli animali perché è molto più piccolo e da qui si vede anche il Kirimanjaro quando c'è bel tempo però oggi è troppo nuvoloso ma comunque ve lo faccio vedere lo stesso il Kirimanjaro non vi preoccupate il Kirimanjaro è molto importante perché è la più grande montagna singola sopra a livello del mare e del mondo sì ho capito bene quindi it's a big deal Amboseli viene dalla parola dei Masai che significa salti dust quindi in italiano è sabbia salata ed è uno dei luoghi migliori per vedere i lefanti da vicino infatti ce ne sono più di mille anche se in realtà noi ne abbiamo visti tantissime anche nello zavo quindi siamo stati fortunati ecco la cosa più complica cioè più diversa rispetto agli altri parchi che qui ci sono queste grandi pozze d'acqua dove ci sono tutti questi animali che si ritrovano intorno quindi ci sono anche i flamingos come si chiamano i fenicotteri e altri uccelli quindi scusate ma sto cercando sto leggendo gli appunti che mi ero fatta in inglese e sto cercando di tradurli in italiano e intanto c'è il microfono che fa i capricci quindi perdonatemi sto facendo del mio meglio è tardi queste sono tutte delle scimmiette che noi stavamo facendo pipì e loro ci guardavano avevo il terrore che ci attaccassero cioè un terrore eccoli qui gli elefanti di cui parlavamo che ce ne sono più di mille mi è piaciuto tantissimo vedere gli elefanti cioè come vedere dei dinosauri praticamente perché sono enormi e super tenere questa è una famigliola di elefantini intanto noi siamo su una jeep con delle altre persone con cui abbiamo fatto super amicizia e quindi è stato un po' traumatico tornare a casa e non vederle più perché poi uno si dice sempre ah questa è la iena è fighissima perché poi uno si dice sempre si si poi ci vediamo poi ci vediamo e poi non si vede più ovviamente e niente questo è il kirimanjaro lo vedete da lontano ed è appunto alto 5.895 metri e l'abbiamo appunto visto nel nostro diciamo quando siamo andati via da Tamboseli e ci siamo abbiamo iniziato la nostra il nostro viaggio di 12 ore verso la costa e specificatamente in modo più specifico scusate verso Watamu che è dove appunto ci sarà il resort dove staremo per qualche giorno sembra un viaggio lungo ma in realtà è stato abbastanza divertente perché il terreno era pieno di buche come quello della savana e in realtà loro lo chiamano il massaggio africano perché è come tipo farsi appunto un massaggio al sedere e come potete vedere dalle finestre della chip il paesaggio sta cambiando la vegetazione del paesaggio sta cambiando e si sta diventando più verde e più umido e possiamo anche vedere un sacco di villaggi e piccole cittadine quindi il viaggio è stato super interessante e non sembrava per niente di 12 ore perché è stato bello vedere il cambio del paesaggio e in generale delle vibes come potete vedere adesso siamo in Watamu e la spiaggia è spettacolare bianca e con tutti i suoi animaletti diversi da quelli appunto della savana bellissimi e anche il mare era stupendo e si chiama infatti Sardegna 2 perché è un mare stupendo come sembrava quello della Sardegna con questa sabbia bianca incredibile e nel nostro hotel potevamo decidere di fare delle escursioni e noi abbiamo deciso di fare il safari blu che appunto ci permetteva di partire con una barca e di andare andare a vedere un'altra parte di costa e poi questa sono io con la maglietta di Elisa Wishburse A S M R eccoci qui in viaggio per vedere questa parte nuova di costa dove ci sono le mangrovie e in generale praticamente sembrava di essere nella cartolina nella foto di nella foto modificata di una di un magazine quindi è stato incredibile e poi siamo stati portati su una spiaggia dove ci hanno donato il pesce ci hanno fatto mangiare il pesce pescato in quel momento dai pescatori quindi è stato un onore incredibile perché ce l'hanno pescato al momento e poi abbiamo avuto la possibilità di prendere il sole e di fare snorkeling ci hanno portato in un'area con la barriera corallina e abbiamo potuto fare snorkeling e quindi come potete vedere da questi video che ho cercato di fare al meglio possibile il safari non si è fermato nei parchi perché appunto come vi dicevo safari significa viaggio e questo è stato un viaggio continuo e spero che vi sia piaciuto e vi auguro una buona notte ciao grazie per essere stati con me grazie per aver guardato grazie per aver guardato grazie per aver guardato